Stiamo valutando la sostenibilità dell'iniziativa sotto ogni profilo, sotto il profilo economico-finanziario, quello ambientale, quello istituzionale, i comuni, le realtà adesso stanno parlando, la sindacologia ha informato di ciò anche il Presidente Lolli e anche sotto il profilo del costo sociale. Tant'è che insieme agli uffici stiamo ipotizzando un'ulteriore quota da aggiungere al semplice costo per il trattamento affinché la Regione possa essere sostanzionata di un importo poco più che simbolico ma importante per realizzare un progetto di ulteriore implementazione della quota differenziata. Noi negli ultimi 4 anni siamo passati dal 46 al 62%, cosa che la città di Roma non è riuscita a fare, negli ultimi 2 anni e mezzo è aumentata solo il 2% e veleggia intorno al 40%. Ecco credo che in questo campo, in generale ma soprattutto in questo campo, chi è virtuoso debba essere premiato e chi virtuoso non lo è evidentemente deve pagare d'azio.